Il nuovo vertice si è tenuto l'altro ieri, strade e piazze si sono rianimate e, sia pur per il momento solo di un'ora, ha giovato anche lo spostamento del coprifuoco che dal 7 giugno scoccherà alla mezzanotte. D'ora in avanti sarà un allentamento progressivo delle restrizioni, ma il richiamo del perfetto di potenza, annunziato Vardè, è netto. Questo non significa che siamo liberi tutti. Conseguente e non scontato l'appello al buonsenso. Comunque bisogna rispettare rigorosamente quelle condizioni che pure permangono. Traduzione, servizi di controllo rivisti, comprensione sì, ma nessuna tolleranza per la violazione delle regole. Noi abbiamo concordato una rimodulazione dei controlli per sintonizzarli alla nuova disciplina che è entrata in vigore.